buongiorno ragazzi noi siamo le ecologiche vintage io sono clara e ho 11 anni io sono greta e ho 9 anni dopo tanto tempo abbiamo deciso finalmente di creare un canale youtube e ci tenavamo tantissimo allora questo canale youtube parlerà della natura e noi dalle persone vorremmo un cambiamento cioè le persone pensano di cambiare il mondo con delle parole ma loro devono arrivare ai fatti perché senza fatti non si arriva a nulla come già sapete e la terra si sta ammalando purtroppo e noi nel nostro piccolo stiamo cercando di aiutarle il più possibile e proprio con questo canale ci vorremmo riuscire allora questo è simile a un gesto che ha fatto una ragazzina che sicuramente tutti conosce conoscete e che ancora oggi fa manifestazioni e ragazzi è lo diciamo 3 2 1 Greta Thunberg noi la seguiamo tantissimo e c'è una delle nostre preferite e adesso vi vorremmo raccontare una storia che è molto profonda e state attenti c'era una volta una piccola scatolina però che puzzava e dentro c'erano tante sporcizie quindi tutti la prendevano in giro poverina guardati non sei neanche piena d'acqua dove vuoi arrivare tutti mi prendono in giro guardati tu sei proprio sicca ma dove andrai io sono una piccola scatolina e da quella scatolina uscivano tante persone però che scappavano così pure il suo cuore scappò e si spezzò in due però un giorno passando passarono anni e anni il gruppo di bambini voleva aiutarla gli dispiaceva che questa scatoletta rimaneva sempre sola perciò i bambini convolzero anche i genitori e a un certo punto la ripulirono tutta e con la volontà di tutto il mondo la scatolina dopo tanti anni diventò una scatolona così dentro ci abitarono tante persone dentro c'erano gioielli oro e vestiti giocattoli ma la cosa più importante era l'amore questo è un cartellone che abbiamo fatto io e greta io sono questa e io sono questa clara e ne abbiamo fatto con tanti impegni e siamo le ecologiche vintage vi state domandate ragazzi perché qui sotto abbiamo lasciato lo spazio bianco però prima di dirvelo vi volevo specificare che cosa significa ecologia visto che ci chiamiamo le ecologiche ecologia significa il rapporto tra l'uomo e la natura cioè la flora e la fauna e poi vintage per chi non lo sapesse significa tipo a un tipo variato quindi non ha molto senso ma ci volevamo aggiungere così per dare un tocco nostro allora adesso vi diciamo perché qui sotto ci sta lo spazio bianco bianco scusate e perché allora volevamo che voi scrivete nei commenti qualche poesia che corta che parli naturalmente della natura e noi le scriveremo tutte qui sotto e i tre più bravi saranno classificati e saranno salutati nel prossimo video ciao ciao plastica no plastica riciclata sì